Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare e offrire la soluzione ad un problema pratico che mi si è presentato poco tempo fa. E in effetti direi che gli script, perché di script si tratta, molto spesso nascono per un'esigenza proprio specifica e quindi ci si dice ok so usare più o meno bene gli script bash, vediamo se riesco a risolvere la tal situazione e automatizzarla con uno script. E nel mio caso specifico mi sono trovato di fronte a questo problema, ovvero di voler copiare dei file fra due alberi di cartelle diversi e quindi sono riuscito alla fine, dopo varie prove, a creare uno script che fa proprio questo lavoro. Cosa intendo con alberi di cartelle diverse? Intendo alberi di cartelle diverse come si può vedere qua sopra. Ho creato un paio di alberi di cartelle e per alberi io intendo di una cartella di livello più alto che può contenere uno o più sottocartelle così come file. E qui vedete che per poi mostrarvi come funziona lo script che vi sto presentando ho creato appositamente una cartella chiamata xorigine e scusate un albero di cartelle chiamate xorigine che ha origine da una cartella che si chiama così e un altro albero di cartelle che ha origine della cartella xdestinazione. Vedete la xdestinazione ha due sottocartelle che si chiamano sotto1 e sotto2 e vari file e l'albero di origine, la cartella xorigine ha anche lei due sottocartelle che però sono completamente diverse da quelle della destinazione e i file che sono presenti anche in questo albero di cartelle di partenza. Ecco, la cosa fondamentale è constatare ovviamente a occhio, lo vedete anche voi, che sotto la cartella origine e sotto la cartella destinazione abbiamo una distribuzione di cartelle e dei file completamente diversa. L'unica cosa che c'è in comune, se vogliamo così, o buona parte di cose in comune sono i file stessi. Come potete vedere c'è un file che inizia con Bach, Air e c'è anche qui, c'è un fpm credit qui, un fpm credit qui e c'è anche qui fpm credit. C'è sottofondo classico qui, sottofondo classico qui, qui c'è country qui, country qui. Qui c'è un file, un nuovo file di testo che non esiste di qua, però per il resto abbiamo molta somiglianza come contenuto di file ma completamente diversa la disposizione di come questi file sono messi in questo albero, rispettivamente in quest'altro albero di cartelle. Ecco, il mio problema che dovevo risolvere prima di creare questo script è stato generato da Rhythm & Box. Immagino che sapete che Rhythm & Box è il player audio, il player musicale installato per difetto in Ubuntu, che si può anche richiamare dal menu, dall'indicatore dell'audio qui, del suono. Vedete che c'è specificato una voce Rhythm & Box, faccio clic qua, mi si apre appunto il programma Rhythm & Box che è il player musicale per difetto in Ubuntu. Cosa è successo con questo Rhythm & Box? Che io ho installato a un certo punto, ho scoperto che c'è un plugin per questo programma che permette di andare a ricercare le immagini di copertine degli album musicali e permette anche di salvare i file musicali, singoli file musicali, con integrata appunto questa copertina di album. In modo che quando guardate, aprite una cartella con i file musicali, vi appare l'icona con il rispettivo album, ma anche nei player, in automobile o su un player digitale portatile, se c'è uno schermo, vi possono apparire le tracce musicali con non un'icona generica, ma con il rispettivo foto, immagine dell'album. Fin qui tutto bene naturalmente, ho installato questo plugin e ho fatto passare una ricerca delle immagini degli album per tutte le tracce musicali che ho sul mio PC, che sono qualche migliaio. E fin qui tutto bene, il problema dove è nato? Che per salvare, per integrare le immagini degli album musicali nei singoli file musicali, ripeto diverse migliaia, questo plugin, l'unica cosa che mi permette non è salvarli, questi file musicali, cioè salvar sopra una nuova copia del file musicale con integrata l'immagine dell'album, lì nel suo posto originale, ma mi permette solo di salvare da un'altra parte questi file musicali, suddivisi in tante sottocartelle, quante sono i nomi degli album. Quindi in poche parole cosa mi è successo? Che io ho organizzato come piace a me da sempre la musica nelle mie cartelle originali, quindi l'albero delle cartelle originali, in questo caso diciamo che è questo, mettiamo che io ho la mia musica organizzata così, questo plugin per Invent Box, me le ha riorganizzate così creando una sottocartella per ogni album esistente nella mia collezione musicale. Quindi immaginatevi voi qualche migliaia di file musicali e diverse centinaia di sottocartelle, poco meno di mille sottocartelle per i vari album musicali. Quindi rendetevi conto, cosa voleva dire per me? Affrontare manualmente il riposizionare tutti i file musicali suddivisi per album nel mio albero di cartelle originale suddivisi come io voglio e come io voglio che siano messi. È un'impresa impossibile, non avrei mai finito di andare a cercare questo file in quale cartella è nel mio albero di cartelle originale. È un lavoro da impazzire, quindi appena ho capito cosa mi sarebbe toccato fare manualmente ho detto qui è impossibile e quindi cosa può salvarmi da questo lavoro in mane? Crearmi uno script che in un qualche modo mi automatizzi questa attività. Allora, prima di creare lo script però, mi è venuta la tentazione di dire ma ci sono già dei programmi che sincronizzano i contenuti fra cartelle diverse o fra alberi di cartelle diverse? Certo che ci sono. Uno di questi programmi, famoso, piuttosto noto, è MELD per esempio. MELD ti permette di confrontare una cartella, un albero di cartelle con un altro e ti mostra le differenze. Qui ho già aperto MELD e adesso facciamo questa prova usando i nostri due alberi di cartelle di esempio qua, questi due. Quindi apro MELD e gli dico da una parte confrontami X origine con X destinazione e vediamo cosa succede. Allora, originale, diciamo che per originale io intendo in realtà la mia destinazione perché la mia destinazione sono le cartelle con i file musicali come li ho sempre organizzati io, quindi la partenza, la mia partenza. Io ho quindi come destinazione della mia copia in realtà la mia disposizione originale di cartelle. E nel mio esempio la cartella origine è quella che mi ha creato il plugin di Rhythm & Box, ovvero l'origine della copia, ovvero le cartelle riorganizzate con tutti i file musicali, riorganizzati secondo sottocartelle con il nome dell'album, dal quale io dovrei ricopiare tutti i file musicali e riportarli nella mia destinazione originale. Ecco, non so, ho sbagliato a scegliere il tipo di confronto, scusate, non è confronto a file ma confronto a directory. Quindi l'originale in realtà è la destinazione, so che può creare un po' di confusione questi nomi. Ho chiamato destinazione ciò che è qui imposto come originale e origine ciò che è imposto come proprio. Però ecco, il concetto è che la destinazione è quello che mi esisteva già e che io voglio rimettere, conservare così, e l'origine è quello che è stato modificato e che io dovrei copiarci sopra alla mia destinazione. Ecco, finalmente confronto i due alberi di cartelle e vedete che Meld fa giustamente il suo lavoro. Però cos'è il problema? Che io non voglio. E che se io usassi Meld per allineare le due alberi di cartelle, alla fine mi ritrovo con la mia destinazione identica nella disposizione dei file e delle sottocartelle come l'origine. Perché qui vedete che Meld mi dice giustamente che nel mio albero di cartelle destinazione non esiste al momento la sottocartella part 1. Quindi a me basterebbe selezionare part 1 e dire qua sopra di copiare di là. Però non è quello che io voglio. Io voglio proprio che questo file, per esempio country, mi vada a sovrascriversi, quindi a copiarsi sopra al country nella sua posizione originale nella cartella destinazione. Ecco, è questo il problema, che con i programmi esistenti di sincronizzazione fra due alberi di cartelle, come Meld è un esempio, non ottengo il risultato che io voglio. Il risultato che io voglio è prendere tutti i file in un albero di cartelle di origine, in questo caso questi, e sovrascrivere i file con lo stesso nome, quindi corrispondente, nella loro posizione originale nell'albero di cartelle di destinazione. Quindi, quello che io voglio fare, in questo caso sono pochi file, manualmente dovrei prendere country, trascinarlo e copiarlo sopra country qui. Poi, nuovo file di testo, devo cercarlo, non ce l'ho, nella mia cartella destinazione non mi interessa. FPM credit ce l'ho, sì, e quindi sovrascriverlo qui. Bach ce l'ho, sì, prenderlo e sovrascriverlo qui, eccetera eccetera. Ecco, qui sono praticamente quattro file, cinque file, sottofondo classica, trascino qua, e capite che in un attimo ho finito anche manualmente. Ma, rendetevi conto, fare questo lavoro con centinaia e centinaia di sottocartelle e migliaia di file, cercare da una parte, file per file, quindi capite che non avrebbe mai fine manualmente questo lavoro. Quindi, i prodotti di sincronizzazione già esistenti non fanno quello che io voglio, quindi MELD non fa il caso mio. Allora, mettiamo icona, e quindi dal momento che ho capito che non potevo cavarmela così facilmente con dei software già esistenti, mi sono messo a pensare ad uno script bash, quindi con linguaggio, diciamo, di programmazione terminale, come quello che abbiamo imparato ad usare nel corso che si trova sul mio canale. E quindi dico, proviamoci, creiamo questo script. Ecco, quindi ho appunto creato queste due cartelle per mostrarvi come funziona, e ho creato appunto il risultato di questo mio lavoro, è lo script che si chiama copia fra alberi di cartelle. E lo vedete qui, e tra poco vedremo come funziona. Allora, questo script cosa permette di fare? Di fare quello che ho appena spiegato quando avevamo in sovrimpressione la finestra di MELD, ovvero non mi pareggia, non mi rende uguale i due alberi di cartelle, ma prende per nome di file, nella cartella di origine, file per file, cerca lo stesso nome di file nella cartella destinazione e lo copia sopra, quindi sovrascrive, ma lasciando esattamente la stessa posizione, la stessa disposizione di cartelle di qua e di là. Quindi va solo per nome di file praticamente, prende, cerca, sovrascrive, prende, cerca, non trova, non fa niente, prende, cerca e sovrascrive. Un dettaglio non indifferente che vi devo dire è che se lo script si accorge che un nome di file nell'albero di origine ha più di una corrispondenza nell'albero di destinazione, lo scrive in un log, cioè in un file di testo a parte, ce lo segnala, ma non sovrascrive più volte quel file. Mi spiego. Vedete che qui nella mia cartella di origine, che sarà poi quella di partenza della mia copia, ho un file che si chiama fpmcredits. Ecco, questo file, guarda un po' che caso, nella mia albero di cartelle di destinazione esiste due volte, lo stesso nome di file, eh? Attenzione, lo stesso nome di file ce l'ho nella sottocartella sotto due e direttamente sotto la cartella destinazione. Quindi lo stesso nome di file, in posizioni diverse nell'albero delle cartelle, è permesso. Perché? Ho fatto in modo che lo script, quando trova questa situazione, non prenda dall'origine l'fpmcredits e me lo copia sopra qui e anche qui. Perché? Non può sapere lo script se questo fpmcredits ha lo stesso contenuto di questo fpmcredits. Perché il nome può essere uguale, ma può trattarsi di tutt'altra cosa. Quindi per non rischiare di sovrascrivere e rovinare il contenuto di uno dei due file, perché probabilmente uno dei due è corretto di fare la copia, l'altro no, in queste situazioni lo script non fa l'operazione di sovrascrittura dei file, ma ce lo segnala in un file a parte di testo, in un logo, ovvero in un giornale, dove ci dice guarda questo non te l'ho copiato perché l'ho trovato più volte. Questo è molto importante, quindi non dovete, diciamo così, aver paura di usare questo script che magari vi sovrascrive cose che non volete, perché in queste situazioni non lo fa. Lo fa solo se trova univocamente nell'albero delle cartelle di destinazione, se trova una singola occorrenza per quel file che sta analizzando. Quindi se country cerca in queste cartelle e lo trova una volta sola, lo sovrascrive, se lo trova due volte o tre o quattro, no. Ecco, quindi lo script è questo e grazie a questo script sono riuscito ad automatizzare tutto il lavoro su centinaia e centinaia di sottocartelle e migliaia e migliaia di file in più o meno, beh, penso, non mi ricordo più bene, ma forse una decina di minuti al massimo, mi ha concluso un lavoro che avrebbe, che sarebbe durato, che ne so, settimane a farlo manualmente, poi decisamente un lavoro poco stimolante. Quindi ecco, avete capito il concetto. Come si fa ad usare questo script? Quindi, come sempre, quando l'avete scaricato, perché ovviamente ve lo metto a disposizione, lo rendete eseguibile, quindi tasto destro, proprietà, permessi, lo rendete eseguibile, attivate questa opzione. Una volta reso eseguibile, basta fare doppio clic. Quindi, diciamo, archiviate nel vostro PC dove volete che questo file lavori, che questo script lavori, lo mettete in quella cartella lì, e in quella cartella lì, questo script creerà, nella stessa cartella dove si trova, creerà i suoi vari file di lavoro, che adesso vediamo fra un attimo, perché questo script crea più file di supporto al suo lavoro o risultato, quindi sono tutti questi, ve li posso già indicare, ecco, uno, due, tre, quattro file, questi quattro file vengono creati nella stessa cartella dove si trova lo script stesso. Poi vi spiegherò cosa sono ognuno di questi file, fra un attimo. Per avviarlo si fa doppio clic, si segue un piccolo procedimento di impostazione, e poi si aspetta che finisca, il suo lavoro parte, si aspetta che finisca. Quando è finito il lavoro, per indicare che è finito, appare un'immagine tipo questa, ecco, faccio apparire un'immagine come questa dove dice copia fra alberi di cartelle, l'operazione, e tra un attimo lo vedremo in diretta, questa finestra, solo per dirvi che una volta partito e non vi dà nessuna segnalazione, dovete aspettare che appaia questa finestra per dire ok, finito. L'operazione di copia fra l'albero di cartelle di origine e quella di destinazione è conclusa, quindi vi conferma che è finito il suo lavoro, e poi vi dà anche delle indicazioni, quindi aprire il file copia fra alberi di cartelle.log per un riassunto dell'operazione effettuate, quindi questo file, che poi ripeteremo fra un attimo, vi elenca tutte le copie che lui ha fatto, le sovrascritture di file che lui è riuscito a fare, e copia fra alberi di cartelle, file doppi, per le copie invece che non è riuscito a fare, proprio per quello che vi ho spiegato un attimo fa, dei file che trova con lo stesso nome, in più parti dell'albero di cartelle di destinazione. Et voilà, tutto qui. Quando ho finito, quindi appare questa finestra. Allora, vediamo di usarlo, questo script, fra questa cartella di origine e questa di destinazione, quindi facciamo doppio clic, esce la solita finestra che vi chiede se mostrare il codice programma dello script, se eseguirlo nel terminale o se eseguirlo. Ecco, nel nostro caso, siccome a questo scritto ho applicato una piccola interfaccia grafica, se vogliamo, per scegliere le cartelle e per darvi conferma che ha finito il suo lavoro, come quella che abbiamo appena visto, non eseguiamo nel terminale questo script, ma possiamo semplicemente fare esegui, perché appunto c'è l'interfaccia grafica. Eccola qua. Allora, la prima finestra che appare è selezionare la cartella origine della copia. E' attenzione che è importante selezionare giuste le cartelle. Cartella origine noi dobbiamo andare qua con pubblici x origine, quindi la nostra home sotto la cartella pubblici e ho la cartella origine, quindi da dove parto per prendere i file da sovrascrivere nell'altro albero di cartelle. Quindi da qui vengono presi per andare a sovrascrivere quelli dell'albero di cartelle di destinazione. Quindi io ho scelto origine. Seconda finestra che appare, selezionare la cartella destinazione della copia. Noi andiamo home pubblici x destinazione, quindi nella nostra home pubblici destinazione. Quindi qua dentro è l'albero di cartelle che è questo, qui sulla destra, dove i file con lo stesso nome verranno sovrascritti, quindi sostituiti. Facciamo ok. Attenzione, dopo questo ok, il lavoro parte. Siccome qui sono veramente 4 o 5 file, in pochi secondi è già finito il lavoro. Nel caso effettivo che ho usato io, con i file musicali, con migliaia eccetera, ho detto che ho aspettato tra i 10 minuti e il quarto d'ora prima di vedere questa finestra. Quindi se avete tanti file non preoccupatevi, aspettate con pazienza. In questo caso appunto con 3 file in croce ci ha messo 2 secondi. E vedete che è apparsa la finestra che avevo mostrato prima con le indicazioni. Quindi fate ok e lo script ha finito. Vediamo adesso il risultato del lavoro di questo script. Cosa mai è successo? Allora, lo script durante il suo lavoro genera i seguenti file, quindi albero di origine e l'elenco di tutti i file dell'albero di cartelle di origine. Ecco questo vi dimostra semplicemente che lui ha ricostruito, partendo da xorigine, tutto questo albero di cartelle con tutti i file. Quindi albero origine, che è questo. Apriamo. E vedete che... Vediamo un po'. Omnicola pubblici xorigine. Ecco qua sono 1, 2, 3, 4, 5 file. Vediamo se è vero. 1, 2, 3, 4, 5 file. Vedete? Lo script si è ricostruito tutti i percorsi e tutti i file dell'albero di cartelle di partenza. Eccoli qua. Poi, albero di destinazione. Ovviamente, si è costruito anche tutti i file esistenti nell'albero di destinazione, che noi gli abbiamo detto, quindi di dove andare a copiare. Albero destinazione. Apriamo anche questo. Eccolo qua. Anche qui ci sono 5 file. Però, chiaramente, vedete che l'albero di cartelle è quello di destinazione, quindi x destinazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5 file. Vedete che c'è fpm credit, country, bach, fpm credit un'altra volta, perché vedete che qui c'è due volte, e sottofondo classico in ultimo. Quindi questi qui sono i due file di appoggio su quale si appoggia lo script per lavorare, quindi o i file di partenza o i file di arrivo, con i nomi da confrontare. Poi, copia fra alberi di cartelle è quello che vi mostra le copie effettivamente avvenute. Copia fra alberi di cartelle. Apriamolo. E vedete che con la prima riga che indica quando è stato fatto, anche l'ora, copia ok, copia ok, copia ok ogni riga, inizia con copia ok, eccolo qua, e vi dice copia ok per il file, quindi l'origine, poi uguale friccettina in là, ed è andato a finire, a sovrascrivere questo file corrispondente. Copia ok per questo file, quindi potete controllare dettagliatamente quale file dall'origine è andato a sovrascrivere quale file nella destinazione. Vedete? Sottofondo classica dell'origine è andato a scrivere il sottofondo classico nella destinazione. Per esempio, lo script lavora proprio sul nome del file, eh? Lavora, scusate, sul nome del file, quindi se trova sottofondo classico va a sovrascriverlo. Poi l'ultimo file importante, anche quello, è quello dei file doppi. Quindi, se nella cartella di destinazione trova per lo stesso nome di un file di origine più occorrenze nell'albero di cartella di destinazione, non fa la copia per non far pasticci. Quindi copia fra alberi di cartelle doppi, vediamo se ce n'è, e in effetti, vedete sempre con la data e l'ora, fa il multiplo nella destinazione e non copiato. Vedete? Questo vi dice, guarda che ho preso in carico nell'albero di cartelli di origine questo file, ma non ho potuto copiarlo, o non ho voluto copiarlo, perché ce ne sono più di uno file multiple nella destinazione. In effetti abbiamo visto prima che FPM Credit esiste due volte. Quindi questi qui sono rimasti gli originali nella vostra albero di cartelle di destinazione. e spetta a voi prendere questo file nell'albero di cartelle di origine, adesso chiudiamo, spetta a voi analizzare manualmente di quale contenuto sta trattando questo file e su quale di questi due sovrascrivere, o magari entrambi se è il caso, comunque su quale di questi due sovrascrivere. Vedete che non ha fatto la copia, la dimostrazione è che questi due file hanno la dimensione di 992 byte, quello di partenza è di 85,9 kilobyte. E quindi vedete che questo è rimasto qui e questi due sono rimasti qui. Questo è molto importante. Ecco, siamo quasi alla fine. Naturalmente vi lascio nella descrizione del file il link per scaricare questo script se vi interessa. E magari solo per darci un'occhiata così veloce prima di chiudere questo video, perché no, vediamo, mostra il codice di questo script che poi potete vedere, guardare, analizzare anche voi per conto vostro naturalmente, ma è un codice abbastanza corposo, più corposo di altri script, suddiviso in compiti ben precisi. Vedete questo crea l'elenco dei file di origine e di destinazione, questi comandi. voi potete indagare per conto vostro perché fanno così questi comandi, comunque, vabbè, comando find, cerca nella cartella di origine, tp file, li sorteggia e li manda, li scrive nell'albero di origine, albero destinazione. Poi questo è un ciclo, un loop di lettura dei file di origine, ovviamente perché si parte da lì, e all'interno di questo ciclo che, diciamo, percorre riga per riga il file albero di origine, con dentro tutti i file dell'origine della copia e fa certe operazioni, quindi determina qual è il nome del file, cerca nell'albero di destinazione, quindi in tutti i file di destinazione, cerca se c'è una corrispondenza, se ce n'è più di una, è il famoso file multiple, quindi non copia, se invece la corrispondenza è una sola, effettivamente fa la copia, ecco qua, copia il file di origine sopra il file di destinazione, lo sovrascrive e poi scrive che ha copiato il file. E alla fine, messaggio di conferma, vedete che tutto sommato è uno script non così imponente, ma il lavoro che fa è notevole, copiare fra due alberi di cartelle differenti, conservando la struttura differente delle cartelle, ma sovrascrivendo i file corrispondenti. Ecco, spero di essere stato chiaro a sufficienza, così come spero che questo script possa incuriosirvi o interessarvi, o magari avete già dovuto affrontare un compito di questo genere, adesso vi metto a disposizione questo file, che può essere anche uno spunto, come sempre, di partenza per risolvere altri problemi di questo genere. Non necessariamente dovete usarlo esattamente così, ma potete avere un esempio con delle sintassi di comandi che svolgono determinati compiti che possono essere utili anche in altri ambiti. Ecco, con questo concluso vi saluto, ciao ciao e alla prossima!